Vi proponiamo ora un brano solo musicale. Ci bustiamo la musica di questo brano. La musica per tastiera sola di Handel ha per troppo lungo tempo messo in ombra le sue opere, oratori e musica orchestrale. L'Allemande della suite numero 16 in sol minore opera 452, scritta originariamente per clavicembalo, è stata in seguito orchestrata per l'orchestra d'archi e stasera lo ascolteremo in un'ulteriore versione per gruppo da camera nell'esecuzione dell'ensemble Nuove Armonie. Bustiamoci questo brano di Handel, Allemande. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.